Come è la terapia dell'artrite reumatoide? E' un notevole miglioramento della qualità di vita e della prognosi nel lungo termine, ovvero non vediamo più come nel passato quei pazienti fortemente invalidati dalla malattia, perché non li vediamo più? Perché attualmente abbiamo a disposizione dei farmaci innovativi che consentono di mettere la malattia praticamente a tacere, di guarire la malattia finché il paziente è in trattamento. Quindi c'è stato un notevole miglioramento. Questo è dovuto a due motivi fondamentali. Il fatto che il paziente viene riferito precocemente al reumatologo, il medico di medicina generale con cui collaboriamo, ci riferisce il paziente molto velocemente. E questo ci consente di fare una diagnosi in tempi molto veloci e di quindi poter ristaurare tempestivamente il trattamento del paziente in quel lasso di tempo fondamentale che si chiama finestra di opportunità, iniziare a trattare il paziente in questa finestra, in cui questo è un lasso di tempo in cui il paziente ancora non ha sviluppato alcun danno articolare. Quindi questo è il primo fattore. Il secondo fattore è che attualmente disponiamo di farmaci notevolmente efficaci, farmaci molto anche ben tollerati dal paziente. Questi farmaci consentono di mettere la malattia a tacere in una notevole percentuale di pazienti. È vero però che pur utilizzando questi farmaci notevolmente efficaci, una certa percentuale di pazienti con artrite reumatoide continua ad avere una malattia attiva, significa una malattia che tende ad andare avanti. E questo quindi stimola continuamente la ricerca in campo reumatologico per produrre sempre nuovi farmaci che siano in grado di andare a curare anche quei pazienti che non avevano risposto alle terapie precedenti. Da questo punto di vista noi recentemente, alla reumatologia del San Camillo di Roma, abbiamo in via sperimentale un farmaco, un farmaco che è un biologico intelligente e che ha una caratteristica fondamentale. Va praticamente a localizzarsi soltanto nel sito della flogosi, cioè solo dove serve e questo consente di ottenere due effetti fondamentali. Uno di andare a trattare in maniera efficace e più efficace la malattia proprio dove serve che il farmaco agisce. L'altro punto è che si possono utilizzare dosi fino a mille volte inferiori rispetto a un farmaco tradizionale perché lo andiamo a concentrare solo nei punti in cui il farmaco effettivamente serve. Questo significa in termini di tollerabilità un passo avanti notevole perché un farmaco così praticamente è quasi privo di effetti collaterali. Attualmente il farmaco che è frutto dell'innovazione di un'industria farmaceutica senese è in via di sperimentazione in Italia e all'estero e stiamo ottenendo dei risultati incoraggianti. Quindi il messaggio da ricordare è questo, la terapia dell'artitrematoide è notevolmente migliorata e già attualmente siamo in grado di ottenere dei grossi risultati in questi pazienti. Nel futuro le prospettive sono ancora migliori grazie alla ricerca che continua in questo campo.